Siamo distrutti e non è possibile una giustizia del genere, non possono fare una cosa del genere perché mia figlia non ha sbagliato e quindi vorrei soltanto giustizia per finire tutta questa storia e per finire anche il dolore che abbiamo io e sua mamma e siamo distrutti. Il 15 agosto 2020 la cittadina di Pizzighettone Elisa Consadori perdeva la vita a bordo della sua vettura travolta da un treno in transito. La causa, secondo la prima perizia, il mancato abbassamento delle sbarre del passaggio a livello situato sulla provinciale Maleo Codogno. Il caso è stato recentemente archiviato per l'obiettiva difficoltà a trovare un colpevole, una motivazione che investe di un profondo senso di ingiustizia i familiari della ragazza e la minoranza del comune, che ha recentemente presentato una mozione nel merito. Ci sentiamo molto vicini alla famiglia di Elisa Consadori che, per chi non lo sapesse, è perita in un tragico incidente il 15 agosto di tre anni fa. È una dinamica non ancora chiara, però a fronte di questa dinamica non ancora chiara è stato chiesto che si proceda all'archiviazione del chiaso. Noi abbiamo presentato questa mozione affinché il Consiglio Comunale e il Sindaco si impegnino a portare a chi di dovere a Roma, in questo caso i nostri parlamentari e i referenti sul territorio, ma anche interessando il senatore Salvini che è il ministro delle infrastrutture, affinché non si chiuda affatto questo caso, si continui con il cercare la verità. Perché ci sono due cose che confliggono precisamente. Da una parte le prime perizie dichiarano apertamente che non c'è stato impatto tra la vettura di Elisa e le barriere e quindi in qualche senso non c'è assolutamente colpa o dolo da parte di Elisa. Però dall'altra parte viene chiesta l'archiviazione di questo caso perché non si riesce a stabilire un colpevole. Questo non lo possiamo accettare. Noi siamo vicini alla famiglia perché siamo padri di famiglia, siamo comunque persone impegnate nella politica locale ed è dovere di chi fa politica locale essere vicino ai suoi cittadini. Non solamente nelle belle cose o nelle giornate di festa, ma neanche nelle giornate di palese dolore. E qui purtroppo per queste famiglie, ripeto, il dolore è quotidiano.